Un caro saluto da Maria Giuliaci, il tempo previsto per giovedì 28 aprile. Sull'Europa centro-occidentale insiste un'alta pressione che abbraccia anche tutta l'Italia, quindi bel tempo sull'Italia, temperature più che gradevole. Temperature in particolare saranno intorno a 16-19 gradi sulla regione del Medio-Basso Adriatico, ma 20-23 gradi sul resto dell'Italia con punte di 25 gradi sulle isole maggiori.